Predicano il nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Messia, che è venuto dal cielo a salvare i peccatori. Gloria al Signore! E come dice la scrittura, Dio non abita in tempi fatti dalle mani dell'uomo, ma Dio abita nei cuori di quelli che credono, credete in Gesù, credete nel Re dei Re, perché Dio vuole abitare nel tuo cuore, tramite lo Spirito Santo. Il Signore Gesù vuole entrare nel tuo cuore, perché il vero Tempio di Dio siamo noi, non è un luogo di cemento, come queste strutture viene di idoli, Dio non è lì dentro, Dio vive nei nostri cuori, alleluia! Se noi crediamo nel suo Vangelo, la verità è qui. La verità non sono i dogmi, o le invenzioni dei papi, o della Chiesa, degli uomini corrotti, ma la verità è nel Vangelo di Cristo, alleluia! Gloria a Gesù! E noi dobbiamo credere nel Vangelo, per ricevere quella luce nei nostri cuori, nella nostra mente, affinché lo Spirito Santo ci possa indirizzare, carissimi, nella retta via, affinché tu non sia più una pecora smarrita, un'anima persa, una persona confusa, nelle vie del peccato, ma affinché anche tu, cara donna, caro uomo, anche tu possa seguire Gesù, perché è Gesù la salvezza, e lui dice, chi mi segue alla vita eterna? Gloria a Cristo! Gesù Cristo è l'unica salvezza, la salvezza non ce la può dare una religione, guardate cosa fa la religione, grandi templi, grandi monumenti, grandi costruzioni, dove spendono milioni di euro, hanno tante ricchezze, ma lì non c'è Dio! E così lo dice la Bibbia! Dio non abita nei templi fatti dalle mani degli uomini, dei peccatori, ma Dio abita nei cuori degli umili, alleluia, nel cuore di coloro che si sono pentiti, alleluia, nel cuore di coloro che credono in Gesù, e noi siamo qui a professare il vero Vangelo, ascoltate con umiltà, e Gesù vi illuminerà, Dio vi benedica! Chi ha orecchi da udire oda, questo messaggio è la verità, carissima! E noi siamo venuti qui a dichiarare questa verità di Gesù Cristo che è vivente! Non fatevi ingannare da Satana! Gesù Cristo non è una statua! Guardate quelle statue! hanno occhi, ma non vedono! Alleluia! Non hanno vita! Gloria a Dio! Quelle statue sono morte! Il vero Dio non si trova nelle statue, ma si trova nella scrittura! Amè! Nella sacra scrittura! Gloria a Gesù! Capolo dell'Umbria! Cercate la verità, cari! Leggete la Bibbia in famiglia! Leggete il Vangelo in famiglia, con i vostri figli, invece di perdere tanto tempo nella televisione, in programmi inutili, in cose inutili, che non giovano a nulla! Leggete la Bibbia, cercate la verità, leggete il Vangelo, e troverete il più grande tesoro, che è la conoscenza di Gesù Cristo, che è reale! Gesù Cristo è vivo, cari! Gesù Cristo è spirito! Gesù Cristo non è un'immagine come quelle sculture di cemento, che hanno piedi ma non camminano, hanno bocca ma non parlano, sono falsi, idoli! Non crediate a quelle menzogne, credete a questa verità! Alleluia! Ve lo diciamo con amore, come una voce che grida nel deserto, come Giovanni Battista, alleluia! Alleluia! Che grida nel deserto, per avvertire il popolo, che stava arrivando il Messia, e così ancora oggi, noi vi stiamo avvisando con amore, di non credere più a quelle menzogne, ma credere a questa verità! gloria a Gesù! Questa rivelazione, alleluia! La parola di Cristo, la parola del Signore, care donne, cari uomini, che è l'acqua della vita, l'acqua della vita, è la parola del Signore, che ti può benedire! Gloria a Gesù! La benedizione, non te la può dare il prete, con l'acqua benedetta, che mette lì in casa tua, quelle cose non servono, tu non hai bisogno di un prete, che venga a tirare l'acqua benedetta, non servono quelle cose, alleluia! è l'acqua della vita, la parola di Gesù Cristo! Amen! Tu non hai bisogno di andare a confessarti, tra virgolette, davanti a un prete, e poi esci, e continui, a essere lo stesso, peccatore di prima! Il prete non ti può perdonare, gloria a Gesù! Ma tu hai bisogno di Cristo! Gloria a Dio! Ti devi confessare a Cristo! Cari, questa è la verità evangelica! Cristo è il sommo sacerdote! Alleluia! Amén! Come dice qui, la Sacra Scrittura, Cristo è l'unico mediatore! Cristo è il vero Santo! Amén! Ti protegge! Amén! Alleluia! Tu non hai bisogno di un Santo di legno! Gloria a Dio! Di un Santo in tasca! Tante persone hanno i Santi in tasca! C'hanno il loro Santo protettore in tasca! E nell'altra tasca c'hanno le sigarette! C'hanno la droga! Nell'altra tasca c'hanno il demonio! Tu non hai bisogno di un Santo protettore! Tu hai bisogno di Gesù Cristo nel corpo! Amén! Alleluia! Alleluia! Questa è la verità, cari! Cristo, alleluia! Alleluia! Che è il sussiccato dei dolci! Che non è una statua come questi qua! Che un giorno tutto sarà distrutto! Amén! Perché il vero Tempio di Dio è nei cieli! Gloria a Gesù! Alleluia! Il vero Tempio di Dio è nei cieli, carissimi! Gloria a Gesù! Anche nel cuore, se crediamo in Gesù e ci pentiamo, perché per essere veri cristiani non basta andare a messa alla domenica e poi tutta la settimana pecchi, ti ubriachi, fumi, guardi la pornografia, guardi le donne degli altri, tanto alla domenica vai a messa! Non è vero? Quello è un inganno! Alleluia! Il vero cristiano ogni giorno deve camminare con Cristo! Alleluia! Deve camminare nella fede! Deve seguire la retta via! Il vero cristiano, la vera cristiana, sono quelle persone che si sono pentiti dei loro peccati, dei loro vizi, della loro malvagità! E hanno iniziato una nuova vita! Gloria a Gesù! Spirituale! Con la fede in Gesù! Gloria a Cristo! Il quale dice, cari dell'Umbria, ti risegue alla vita eterna! Seguite Cristo! Gloria a Gesù! Una religione vana! Una religione falsa! Dove la vita delle persone non cambia! Dove le persone non si pentono dei loro peccati, ma continuano a fare quello che vogliono! Il vero cristianesimo ci cambia! Il vero cristianesimo ci libera! Amen! Amen! Alleluia! Gloria a Dio! Dali peccati, dai vizi, dall'adulterio! Alleluia! Dalla menzogna! Gloria a Dio! Dalla bestemmia, l'omosessualità! Alleluia! Tante cose malvagie che rovinano l'uomo! Gloria a Dio! Alleluia! Il vero Vangelo cambia il cuore! Amen! Oh, alleluia! Il vero Vangelo illumina l'anima! Gloria a Dio! Gloria a Dio! Il vero Vangelo è la verità di Gesù Cristo! Gloria a Dio! che ci ha tanto amato, che è morto alla croce, per salvare i peccatori! Noi siamo qui questa sera, alleluia! A evangelizzare, a parlare della verità di Gesù Cristo! Amen! Alleluia! Che morì alla croce per salvare i peccatori! E che il terzo giorno, gloria a Dio! risuscitò per darci la speranza! Gloria a Gesù! Alleluia! Noi siamo venuti qui a evangelizzare, a parlare di Gesù Cristo! Vedete? Come è? Gloria a Gesù! Gloria a Dio! Gloria a Dio! Pregamo a Dio! Alleluia, Signore! Alleluia! 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 Alleluia!